Ci risiamo, l'ospedale di Biella nuovamente chiuso per Covid, verrà data priorità alle emergenze B e U, patologie oncologiche e screening. Per il resto purtroppo è tutto bloccato, al momento i ricoveri sono 77, di cui 19 in terapia semi-intensiva. Di questi 55 sono persone non vaccinate, i rimanenti invece sono persone pluriottantenne con un quadro clinico severo. La situazione quindi è di nuovo di emergenza, lo abbiamo documentato nell'hot spot tamponi proprio ubicato a fianco all'ospedale. Tante persone, anche in isolamento fiduciario, assistite al domicilio, circa 100, la situazione è nuovamente critica, quindi è opportuno prestare davvero la massima attenzione. Il rischio è nuovamente quello di prolungare le liste d'attesa, ma evidentemente questa disposizione è una misura dettata a livello regionale e ancora prima a livello nazionale. Purtroppo la pandemia continua e bisogna farci conti, anche per quanto riguarda le visite ai parenti, per il momento viene permesso l'accesso delle visite, però solo con il possesso del Super Green Pass e al massimo per un quarto d'ora. Questo però ovviamente non vale per le persone positive al Covid. Dal momento sono stati attrezzati tre reparti, medicina riabilitativa, pneumologia e naturalmente terapia semi-intensiva.